Per moltissimi pazienti, soprattutto per i pazienti colmatologici, per i microcidentici, per tutti i pazienti che afferiscono al pronto soccorso. Il sangue è una risorsa che non può essere comprata da nessuna parte, solo e soltanto se ci sono donatori attivi, fidelizzati, volontari, di qualità e di sicurezza ne possiamo sperare in un'aspettativa di vita migliore per questi pazienti. Qual è l'appello che vuole fare ai cittadini di Reggio? L'appello che voglio fare è questo, noi oggi siamo purtroppo l'ultima provincia calabrese, non siamo ancora autosufficienti e dobbiamo dipendere necessariamente da altre province o dall'Italia stessa. Quindi risvegliamoci, siamo la città più grande della Calabria, 250.000 abitanti e solo 10.000 donatori sono veramente pochi. Cerchiamo di svegliarci ed aiutare questo ospedale, perché l'ospedale è nostro, non è degli altri, è solo e soltanto nostro. Grazie, breve però intenso. Grazie 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 Grazie